La svolta dovrebbe arrivare in settimana. Domani l'amministrazione comunale, impianti SRR e la società in-house della SRR4 che gestisce il servizio rifiuti nei comuni dell'ambito ratificheranno il contratto attuativo. Sarà un momento decisivo per il passaggio da Tecra all'in-house. L'amministrazione comunale ha già ottenuto il via libera al piano economico finanziario del nuovo servizio e l'assise civica si occuperà anche della variazione di bilancio necessaria in questa fase di assenza totale di strumenti finanziari. Impianti SRR ed SRR4 attraverso l'amministratore Giovanna Picone e il presidente Vincenzo Marino avevano già dato piena disponibilità a concludere il contratto senza il quale non si potrà andare avanti. L'assessore Ivan Eliardi alcuni giorni fa aveva indicato la settimana in corso come quella per la firma. Lo stesso sindaco Lucio Greco vuole chiudere prima possibile dopo la sigla impianti SRR entrerà a regime entro ottobre ma procederà da subito con interventi straordinari di pulizia della città. Nella fase intermedia non è da escludere l'ultima proroga quindi a Tecra. La firma del contratto attuativo metterà formalmente fine a quasi un decennio di servizio Tecra portato avanti prevalentemente in proroga tecnica e il managgimento di impianti SRR e la SRR4 hanno trovato l'intesa con le sigle sindacali anche se vanno risolti i dubbi sollevati da USB e Fit CISL. Il riferimento è all'assorbimento diretto dei lavoratori del servizio che già operano nei comuni dell'ambito. Si aggiungeranno quelli che in città sono attualmente in forza a Tecra e gli operatori alla piattaforma Timpazzo.